ah che bella la mia nuova casa guarda questa qui c'ha due piani quell'altra teneva un piano e mezzo questa qui è molto più grande tiene diciamo il giardino e qui tengo dei vicini vabbè non credo che mo stanno in casa tanto non li sto sentendo vorrei capire perché c'è della roba rotta acqua a terra pepe questi si deve buttare o questi sono loro mi sa cosa è stato che cacchio è stata sta botta poti andiamo a vedere se tutto bene caso mai signori vicini va tutto bene cosa è successo sentito rumore tipo ha colpito qualcuno io non ho visto niente neanche io ho visto niente mi sto facendo la doccia ok mo basta mi sono rotto i coglioni io esigo rispetto dai miei vicini perché altrimenti così non andiamo d'accordo chi è oh salve signor vicino scusa per averlo colpito con una scatola a me non lo dici scusa non voglio che succeda mai più non dovete fare casino e dovete pulire sta monnezza da qua a guardate avete sporcato fine dentro casa mia vi rendete conto dopo puliamo tutto perfetto adesso le auguro buonanotte che si è fatto tardi buonanotte oddio cosa cacchio è chi è che ha messo la musica dal tuo nuovo volume e la cordon bleu non la vuole una birra la vuoi tu no no ma che birra io non sto capendo più niente eh sì dove stanno ci legge Gennaro e che cacchio ne so a sboccare ci hanno fatto bere tre casce di birra io non sto capendo niente e la madosca mamma mia comunque questa festa è uno spettacolo oddio ho piaciuto il decollo scusa roberto scusa cordon bleu deficienti aprite questa porta uh salve signor vicino ma salve un cacchio dovete io sto cercando di dormire domani devo lavorare voi fate sto casino sì ma allora mi dovete far arrabbiare io me ne vado da qua se c'è voi come vicini mi sono rotto le scatole mi scusi signor vicino di mela lo vuole uno splinz uno splinz come cacchio ci eserisce uno splinz una birra avete trovato dai un goccio di birra non fa male a nessuno minchia cosa è successo non sto capendo niente siamo tutti ubriachi io per esempio invece di invece di andare a dormire sul letto mi sono confuso e sono andato sul cesso il letto è di là oddio 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 questi due stanno dove hanno fatto quei due chi? ci legge Gennaro se ne sono andati tipo due secondi fa vabbè torno un attimo a casa mia che ho bisogno di riposarmi minchia ma qua a terra ancora devo pulirla a tastamonnezza devo pulire pure il pavimento di casa niente di meno guarda che cacchio hanno combinato mi hanno rimesso sul pavimento me la guarda cosa ho comprato a napoli ma che stanno dicendo questi qua qua a fianco cosa come hanno comprato a napoli cosa minchia sta succedendo signor vicino se le pago una battona lei ci scusa no 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 no